L'ordine dei medici ha un nuovo consiglio e un nuovo presidente, il dottor Alessandro Grimaldi, primario di malattie infettive dell'ospedale San Salvatore, eletto dopo la tornata elettorale in via telematica, che ha avuto un'affluenza notevole. Il medico Aquilano era l'anima della lista ospedale integrazione territorio, proprio per riaffermare la vicinanza che devono avere i medici ospedalieri con quelli di medicina generale. C'è un'alleanza forte tra noi ospedalieri, i medici del territorio, che ringrazio in particolar modo il dottor Albano, Barbati e gli altri, proprio perché crediamo che in questo momento bisogna puntare a una deospedalizzazione della medicina e stimolare una collaborazione tra l'ospedale e il territorio. Quindi è importantissimo avere un'alleanza, un programma forte su questi temi, che sono alla base di alcune soluzioni dei problemi della sanità attuale italiana. Quindi ci auguriamo che si possa arrivare a raggiungere degli obiettivi comuni. Il mandato del dottor Grimaldi non sarà facile. La sanità pubblica vive mille difficoltà su tutte le norme deficit della ASL. Per il medico Aquilano bisogna tornare ad investire, ma c'è una cosa buona, l'unità finalmente dei vari territori della provincia dell'Aquila. In questo momento la sanità pubblica è pesantemente definanziata. Noi spegniamo il 6,2% del PIL rispetto alla media OX che è 7,5% rispetto al 9% che spende la Germania. Quindi dobbiamo finanziare di più la sanità pubblica e spendere meglio i soldi e le risorse che abbiamo a disposizione. Però voglio sottolineare che oggi fare sanità nelle aree interne, nello specifico la provincia dell'Aquila, dove questo ordine insiste, è ancora più difficile. Quindi occorre maggiore attenzione anche da parte della regione per le difficoltà che abbiamo in questo territorio. La cosa più bella che io ho trovato durante la campagna elettorale per quest'ordine è stata l'unità dei territori. Io ho trovato non le solite divisioni tra Aquila, Valle Peligna, Alto Sangro e Marsica, ma ho trovato tanti medici che vogliono unirsi insieme per lavorare insieme e per avere i giusti riconoscimenti. Grazie. 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 Grazie.